E questo buono non deve essere per dire il percentuale meno del 100%, puoi metterne il 10%, ma non meno, perché mettendo il 10% il prodotto risulta magari più buono, però non lo sviluppo. Il nostro obiettivo sono fare gli scatti, quindi nell'azione vediamo un attimo, con te. No, perché potevo farvi vedere anche fare magari un tipo di pane con quella macchina. Eccola lì, adesso può oggi. Come si chiamano? Ma che sai che non è? Abbiamo 40 kg di pane sempre per impornare all'inizio. Quante volte ha sensazioni quando si passa dentro? Allora, vede a occhio e sentendo proprio la pasta che è bella liscia e bella elastica, soprattutto quella, toglierla. Ora mettiamo sul tavolo e facciamo un pulito. Ciao. Grazie, grazie. Si dice? Grazie tante. Grazie. 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 Grazie.